Paccheri ripieni di friarielli con crema al pecorino. Cuociamo i paccheri in acqua bollente salata. Prepariamo il ripieno del pacchero mettendo e friariello pestato a coltello. Aggiungiamo della ricotta di pecora. Iniziamo a lavorare l'impasto in questo modo rendendolo omogeneo. Aggiungiamo un po' di parmigiano reggiano ed ultimiamo l'impasto. Prendiamo i paccheri che abbiamo cotto e raffreddato, la farcia con effri a riello che abbiamo messo in sac a poche e andiamo a riempire il pacchero. Prendiamo una foglia di poro scottata e andiamo a legare tutti i paccheri. Aggiungiamo un po' di parmigiano grattugiato. Gratiniamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Ora mettiamo sul fondo del piatto la nostra gran crema di pecorino. La distribuiamo a specchio. Posizioniamo i paccheri gratinati al centro del piatto e ultimiamo con del pepe rosa macinato. Il piatto è finito.